Piazza Affari e le altre borse europee chiudono negative, appesantite dallo scivolone del prezzo del petrolio con il greggio che è arrivato a perdere oltre il 2% a 43 dollari al barile. A Milano il Fuzzimib chiude in calo dello 0,97%, sotto quota 21.000 punti. Forti vendite sul listino principale della piazza milanese per i titoli del comparto petrolifero, Eni, Tenaris e Saipem. Colpiti anche Leonardo STM e fra le banche Biper e Mediobanca. Acquisti invece sul settore della moda con Ferragamo e Moncler in rialzo di oltre due punti percentuali. Tonica e Mediaset e Leutility.